Lo prendiamo molto seriamente questa cosa della divulgazione, del rendere pop un concetto che magari sembra passato di moda, invece si tratta di una gestione del territorio, di una reinvenzione del territorio in cui la parte creativa è fondamentale e in cui la parte emotiva è fondamentale e quindi noi cerchiamo nel nostro piccolo di darla. Ci saranno anche teatro, danza, fumetti ed un intrattenimento che si accompagnerà ai momenti formativi e di riflessione che a fine maggio porteranno Sandona di Piave nel cuore del dibattito nazionale sul rapporto tra uomo, acqua e territorio in occasione del centenario del congresso regionale delle bonifiche venete che nel 1922, proprio da Sandona, pose le basi della moderna bonifica. Il senso è quello di ricordare cosa è successo, cosa cento anni fa hanno pensato le menti di allora per lo sviluppo, un miglior sviluppo dell'uomo nel territorio che abita. E vuole essere questo il momento per riproporre una riflessione sul domani della bonifica, dei risultati che sono stati raggiunti fino ad adesso con l'opera della bonifica e quale potrà essere il contributo della bonifica per lo sviluppo cosiddetto sostenibile e futuro. Le bonifiche contribuirono a debellare la malaria e far emergere nuove campagne per lo sviluppo dell'agricoltura e la nascita di nuovi centri abitati. Da questo punto di vista, gli ultimi cento anni rappresentano un patrimonio dal quale attingere anche e soprattutto in previsione futura. C'è molto di buono in questi cento anni di storia della bonifica, molto dell'uomo che ha costruito, che ha creato delle opere molto importanti per la salvaguardia del territorio, ma c'è anche un uomo che purtroppo non sempre è molto attento all'ecosistema, alla biodiversità. Quindi sono cento anni che ci insegnano che cosa si può fare di buono, ma anche come si deve invece rispettare il territorio nel quale si vive e che ci ospita.